Ciao, sono Francesco Tunno, vivo Castelfi Tardo, faccio la prima media e il mio sport preferito è il calcio, in realtà però faccio hip hop. La mia scuola preferita è la Juve. Sicuro che non è l'Inter? No, no, Juve. Prima ero dell'Inter. Ah, prima ero dell'Inter. E il Milan invece? Per carità. Mamma mia, il Milan per carità. Milan per carità. Ma sei forte a calcio? Sono proprio tutto come portiere. Ciao, io sono Parima Ladrago e abito a Monteprandone. Ho 14 anni e faccio il liceo artistico ad Ascoli e appunto mi piace disegnare e nel tempo libero anche leggere. Ciao, mi chiamo Prince Drago, abito a Monteprandone, vengo dall'India, faccio la scuola elementare. E faccio la terza. Il mio colore preferito è il bianco, mi piace fare piscina. Poi il mio colore preferito è il bianco, mi piace fare piscina e un giorno vorrei diventare campionessa di piscina. Ho 9 anni, faccio la quarta e il mio colore preferito sono gli spaghetti con il sugo. Come ti chiami? Marco. Come ti chiami? Marco? Marco Grifone. Marco Grifone. Quanti anni hai? 8 anni. Ma ancora 10? 8 anni. Emily. Emily, quanti anni hai Emily? 10 anni? 5. Ma Emily, qual è il tuo colore preferito? Il rosa. Il rosa, mi sa che si vede che è il rosa perché vedi i tuoi vestiti sono tutti rosa. E un cibo che ti piace particolarmente? L'insalata. L'insalata, ma a me suggeriscono che ti piacciono molto gli gnocchi. È vero che ti piacciono gli gnocchi? Bravissimo. Brave. Brave. Grazie. Grazie.